Torna l'evento dedicato alla sposa artigianale. Dimmi di sì, sabato e domenica 25-26 ottobre, dalle ore 19, presso Salerno Incontra, via Roma numero 29, Salerno. Defilé, esposizione di abiti da sposa d'epoca, bomboniere, prodotti artigianali, gioielli e bijoux, degustazione torte noziali e spumanti. Defilé ore 20 e 30, ingresso riservato con prenotazioni al numero verde 800 97 33 07. Evento organizzato da Camera di Commercio di Salerno, Intertrade Salerno, CLAI Salerno.